Un saluto, ben ritrovati come state, vi invito come sempre a commentare numerosi, a lasciare un like e iscrivervi, mi raccomando siamo 16.995 quindi arriviamo a 17.000 con questo video. Vittoria del Milan, una vittoria che di questi tempi, visto l'andazzo, visto l'atmosfera, non era assolutamente scontata, anche perché Frosinone era una squadra interessante seppur ne ho promossa. Milan aveva anche delle assenze, ottima l'intuizione di Ternades che ha fatto un partitone in fase difensiva e in fase offensiva. Protagonista Meignan che ha fatto una paratona e l'assist a Pulisic per il secondo gol. L'americano si dimostra un giocatore di una qualità estrema, con ogni giocata davvero ha fatto una grande partita. Il controllo su uno stop di 60 metri è straordinario, difende palla, tocco sotto, davvero molto molto bello. Si è sbloccato Jovic, l'avevo detto nel video su Milanello, ragazzi oggi mi sento il gol di Jovic, ha segnato Jovic che poi ha fatto anche l'assist per il terzo gol di Tomori. Una buona prova del Milan, direi con tanta applicazione generale, nonostante ripeto le assenze. Poi è arrivato anche il gol subito che non manca mai di questi tempi, con la punizione appunto dell'ex Brescianini. Comunque una buona partita, tre punti, in attesa di capire come si configurerà la classifica domani quando ci sarà appunto l'impegno tra Napoli e Inter. Comunque weekend tutto andrà positivo, con il ritorno anche in campo di Ben Nasser, oltre 200 giorni dopo quell'infortunio. Devo dire Ciucquezzi un po' pasticcione, ha voluto a volte un po' strafare, mentre il centrocampo si è mostro discretamente bene. Bene insomma anche la difesa, peccato per il gol appunto, preso ancora una volta su palla inattiva. Si è sbloccato Jovic, gol e assist e in generale ripeto capitano America Pulisic molto molto bene. Ditemi che ne pensate, i vostri promossi e tra virgolette bocciati. Commentate qui sotto, iscrivetevi da questa parte numerosissimi e lasciate un like. Ci vediamo per altri aggiornamenti domani. Buonanotte, ciao!